Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipili e in tutta la rete autostradale toscana. Sulla Fipili restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina per lavori in corso, possibili disagi per la viabilità. In A1 per lavori sono chiuse le stazioni di servizio Roncobilaccio Ovest e Roncobilaccio Ovest, fino alle 8 di stamattina. Sempre in A1 tra il Bivio A1, variante di Valico e Badia in direzione Firenze, c'è un veicolo fermo in avaria. A Firenze via di Careggi rimarrà chiusa tra via Bolognese e via Incontri a causa di un intervento urgente che si concluderà lunedì 8 marzo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!